La Chiesa deve impegnarsi per essere sempre un modello di riconciliazione, giustizia e pace. Lo ha sottolineato Papa Francesco e Vescovi del Cameron ricevuti al termine della visita ad Limina. Il Papa ha consegnato loro il suo discorso, un discorso in cui manifesta apprezzamento per le opere sociali della Chiesa, esortando a fare in modo che testimonino sempre la luce del Vangelo. La presenza importante del mondo musulmano nel vostro Paese, dice il Papa nel testo consegnato, costituisce un pressante invito a testimoniare gioiosamente e coraggiosamente la fede in Cristo. Sviluppare un dialogo interreligioso in uno spirito di fiducia reciproca è indispensabile per mantenere un clima di coabitazione pacifica e scoraggiare quella violenza di cui i cristiani sono vittime in altre zone dell'Africa.